Per quanto riguarda la relazione sulle misure delle sfere, quello che abbiamo detto l'altra volta è giusto nella conclusione, probabilmente siccome uno dei vostri colleghi mi è venuto a chiedere, nella spiegazione non è perfetta, quindi facciamo la proiezione sul cerchio di raggio 1, l'integrale finale si faceva sul cerchio di raggio 1, quindi stiamo facendo la sezione fissata x1 e x2 e la proiezione sul cerchio di raggio R e quindi eventualmente se nella spiegazione non è corretta dovete correggerla, poi questo lo controllate da voi. Un'altra cosa che non sono sicuro di ricordare se ho detto bene o no, però diciamo ovviamente la conclusione anche lì è vera, quando parlavo della proiezione, non mi ricordo se ho detto per caso che la proiezione è aperta, è un'applicazione aperta, nel senso che se questo è un aperto la proiezione su alcune coordinate è un insieme aperto, questo perché un aperto è intorno di ogni proprio punto e se gli intorni li prendiamo di tipo come intervallo centrati nel punto, è chiaro che la proiezione di un intervallo è un intervallo, quindi la proiezione è ancora l'unitore di ogni proprio punto e quindi è aperta, quindi è un'applicazione aperta, è un'applicazione continua ma non è un'applicazione chiusa, cioè io posso avere qui, se vi ricordate lo stesso esempio che fece l'altra volta per dire che due chiusi possono avere distanza diciamo 0, ma se voi prendete questo punto e questo chiuso hanno distanza positiva, quando li proietto la proiezione di questo chiuso è un aperto, quindi non è un'applicazione chiusa, cioè la proiezione di un chiuso ovviamente può essere un aperto, questo esempio lo prova, però diciamo quello che abbiamo detto nelle conclusioni non cambia nulla e quindi diciamo modulo una piccola correzione eventuale, perché non mi ricordo di come ho detto, ma diciamo funziona tutto, ok, infine un'altra cosa che era rimasta appesa era la dimostrazione, quantomeno la giustificazione del teorema di Gouldino, allora vi ricordo cosa diceva il teorema di Gouldino, il teorema di Gouldino dice che io ho una figura qui, chiamiamola T, allora qua stiamo nel piano x, x, z, allora lui dice che, il teorema di Gouldino dice che se io faccio ruotare T attorno all'asse z, per il teorema vale anche se la rotazione non è completa, però per non diciamo introdurre possibili confusioni, suppongo che ci sia una rotazione completa di T attorno a z e ottengo un solido V. Allora, cosa dice il teorema di Gouldino? Dice che la misura tridimensionale di V, cioè il volume di V è uguale a 2π per la lunghezza, allora è l'area bidimensionale di T per 2π per la lunghezza che è scritta dal baricentro, che è 2π per la coordinata x del baricentro, ma la coordinata x del baricentro non è altro che l'integrale su T di x in dx del z fratto la misura due dimensionale di T. Quindi, semplificando, questo non è altro che 2π per l'integrale steso a T di x in dx del z. E questo perché? Allora, qua vado a ingrandire questo è T, qua c'è x, qua c'è x più delta x, e qua c'è z più delta z. Allora, se voi vedete questo rettangolino, questo rettangolino, ha area delta x delta z. E questo rettangolino, quando gira, cosa produce? Produce una corona circolare, diciamo, cartesiano, l'altezza z, z più delta z. Ma la corona circolare, allora, il volume della corona circolare, diciamo di questo solito, è l'area di base, cioè l'area della corona circolare che è y x più delta x quadro meno x quadro per l'altezza che è delta z. Quindi vedete che questo è y x quadro meno x quadro se ne va, poi rimane 2x delta x più delta x quadro per delta z. Allora, vedete che a meno di... Allora, questo qua sostanzialmente è un infinitesimo di ordine 1 in delta x, di ordine 1 in x e di 1 in z. Questo qua è un infinitesimo di ordine 2 in x. Quindi, se trascuriamo questo infinitesimo di ordine superiore, facciamo la somma dei contributi e passiamo al limite facendo un opportuno ragionamento, comunque, questo, quello che dobbiamo fare è esattamente l'integrale di 2 pi greco x di x di z. Ok? E quindi questo è quello che giustifica il teorema di Coutinho. Una dimostrazione vera e propria non la faccio perché ci prendiamo solo teorema. Ok. Bene. Adesso prendiamo gli... Allora, innanzitutto... andiamo a fare... Adesso... Una... un tipo di integrale che capita spesso nel compito e nonostante capiti spesso nel compito me l'ho sbagliata tanto spesso Allora prendiamo un triangolo T Allora, prendiamo... Fissiamo i vertici un vertici che lo metto sempre nell'origine prendiamo un altro vertice, per esempio il punto uno, due pieno, due eh e poi prendiamo un altro vertice, un altro vertice, per esempio il punto tre meno uno ok allora diciamo che questo è tutto punto numero uno mi sapete valutare l'area di questo triangolo senza fare nessun cambiamento di cortinale quando dobbiamo fare niente? allora conviene spezzare i due triangoli così quindi conviene calcolarsi in questo punto per quale motivo? questi due triangoli la base è verticale oppure se preferite potete spezzare lungo questa linea orizzontale forse è anche meglio quindi dobbiamo determinare questo punto qua allora per quale motivo? se questi punti li chiamiamo A e B e C allora io qua ho quant'è diciamo l'area di OAC? l'area di OAC è la lunghezza di OAC per la lunghezza per la diciamo l'altezza che è AH questo punto lo chiamiamo H ma H che è? è l'ordinata di A e 2 similmente l'area di OAC è sempre la lunghezza di OAC per B, H, B, K se questo punto lo chiamate K ma quello che ci interessa è l'ordinata di di B in valore assoluto in questo caso l'area è sempre positiva diviso 2 quindi per determinare B e C io mi devo determinare prima questa equazione qui di questa retta qui ma io la retta deve passare per il punto 1,2 e per il punto 3,1 cioè aumentando di 2 deve scendere di 3 quindi questa retta è meno 3x meno 3,5x più 7,5 perché se faccio no più 9,5 no 7,5 perché 7,5 meno 3,5 fa 4,5 cioè fa 2 e 7,5 meno 9,5 fa meno 1 quindi questa è la mia retta adesso adesso se devo determinare se devo imporre y uguale a 0 ottengo meno 3x più 7 uguale a 0 cioè y uguale 7 terzi cioè 2 qualcosa 2,1 terzi più o meno anche visivamente fate un controllo sempre anche visivo ci troviamo allora allora che cosa succede che OC è uguale a 7 terzi quindi l'area di OAB questa è uguale a 7 terzi che moltiplica la differenza tra queste due ordinate che fa 3 diviso 2 quindi viene 7 meno allora l'area del triangolo di sopra è base per altezza diviso 2 l'area del triangolo di sopra è base per altezza diviso 2 altezza di sopra è 2 altezza di sopra è 1 facendo la somma delle altezze 2 più 1 fa 3 quindi viene base che è la stessa per 3 diviso ok adesso questo triangolo lo chiamo T T è il triangolo OAB ok adesso voglio fare l'integrare su T del per esempio logaritmo di x y in x 10 allora fate attenzione perché questa funzione è definita su tutto T tranne che nell'origine perché è definita su tutto T allora io cosa devo fare devo verificare che stiamo nel dominio del logaritmo il dominio del logaritmo è x più y maggiore di 0 ma se faccio x più y maggiore di 0 x più y uguale a 0 è la bisettrice del secondo e quarto quadrante e quindi ottengo che stiamo tutti i punti che stanno nel dominio ripeto tranne per x che si avvicina x y che si avvicina all'origine il logaritmo tende a meno infinito quindi potrebbe succedere che questa funzione mi dia un integrale infinito più precisamente potrebbe succedere che questa integrale diverga negativamente a priori non succede però c'è qualche motivo di preoccuparsi per applicare le formule eccetera eccetera no nel senso che è vero che noi abbiamo dimostrato le forme di cambiamento di variabile per le funzioni sommabili però se la funzione era positiva non c'era bisogno che fosse sommabile qui che cosa succede l'unica funzione che può divergere è la parte negativa che mi può dare un integrale più infinito quindi l'integrale dovrebbe dare meno infinito se l'integrale fatto col cambiamento di variabili mi darà un integrale finito vuol dire che anche quello di partenza era finito se no non ho mai più infinito meno infinito quindi posso tranquillamente procedere a fare un cambiamento di variabili per quale motivo è consigliabile fare un cambiamento di variabili uno dice ma a me che mi interessa io potrei dividere il mio insieme in due allora questo insieme è normale rispetto all'asse x però attenzione che il profilo di sotto l'alfa di x è sempre la stessa beta di x invece da 0 a 1 ha un'equazione da 1 a 3 ha un'altra equazione quindi se io voglio calcolare questo integrale senza fare il cambiamento di variabili devo farne due e due è il doppio di uno quindi se per fare questo integrale ci vogliono un quarto d'ora o dieci minuti o cinque minuti dipende da chi lo fa ma se per fare manualmente l'integrale vi ci vuole un quarto d'ora per farne due vi ci vuole mezz'ora non solo se la possibilità di fare un errore nell'integrale è del 50% nel momento che ne dovete fare due la probabilità di fare un errore diventa non del 75% perché gli eventi non sono scorrelati diventa molto più alta perché dovete fare due perdete il doppio del tempo allora cercate di andare di fretta andando di fretta la possibilità di fare un errore aumenta quindi siccome a fare il cambiamento di variabili ci vogliono tre minuti qui è sicuramente conveniente fare per forza il cambiamento di variabili per forza cioè non siete costretti però se non lo fate poi arrivate e l'esercizio è sbagliato poi mi dice ma là è solo un errore di conto l'integrale di un conto è se è errato è un conto errato ok allora come si fa il cambiamento di variabili guardate che tra l'altro io questo esercizio ce lo metto spesso perché esattamente per forzarvi a fare un cambiamento di coordinate quindi per abituarvi a usare la formula di cambiamento di variabili di integra è il caso più semplice che abbiamo perché ci si tratta di fare un cambiamento di variabili lineare non c'è neanche la traslazione le prime volte ci mettevo pure la traslazione poi la gente si impicciava in tutti i modi possibili e quindi ho tolto la traslazione allora qual è questo qua vi ricordate che è l'area fra 7 mezzi me lo sono giusto per questo ci serve per controllo allora io cosa voglio fare voglio fare un cambiamento di variabile le nuove variabili le voglio chiamare u e v allora qual è il concetto il concetto è che la u mi si deve annullare sul trasformato di questo punto allora per esempio prendo la u uguale a y meno 2x invece voglio che la v si annulli sul trasformato di questo punto quindi mi viene 3 scusate x più 3x allora andiamo a vedere che succede nel piano u siccome è un cambiamento di coordinate lineare basta andare a fare i trasformati dei 3 punti quindi il mio u v è uguale a gamma di x y cioè meno 2 1 1 3 moltiplicato x y meno 2x più y x più 3y chi è lo jacobiano d u v in d x y non è altro che meno 2 1 1 3 quanto va il determinante di questo jacobiano il determinante di questo jacobiano fa meno 7 questo ci dice che probabilmente ci conviene poi cambiare un segno facciamo questo si facciamo cambiamo segno questo allora poi viene 2 meno 1 2 meno 1 2 meno 1 e il determinante fa più 7 non perché il determinante non mi piaccia il determinante si mette il valore assoluto quindi non cambia nulla quello che cambia è l'insieme trasformato andiamo a vedere chi è l'insieme trasformato allora se al posto di xy metto 0 0 cioè trasformato questo è gamma di o gamma del vettore invece gamma di a che coordinate ha gamma di a la coordinata u è 2 meno 2 che fa 0 la coordinata v è 2x meno y è 7 questo è gamma di a andiamo a vedere chi è gamma di b gamma di b t è 6 meno meno 1 fa 7 poi x più 3y fa 0 quindi questo è gamma di b questo punto qua è gamma di b quello di coordinata 7 0 quindi il trasformato di t è questo triangolo qua allora io cosa devo scrivere io so che poi che cosa so io devo trasformare la mia funzione nelle nuove coordinate quindi mi devo ricavare gamma meno 1 cioè devo esprimere la x la y in funzione di u e v allora per trovare la x basta semplicemente devo fare 3u più v così 3y meno 3y se ne va fratto 6 questa è la x mentre la y è uguale a v 2v meno 1 fratto 7 2v perché se faccio 2v viene 2x meno u meno 2x se ne va poi viene 6x meno meno y fa 7y fratto 7 in particolare x più y mi fa 3v più 2u fratto 7 ok il controllo 3v più 2u 3 più 4 fa 7x 3v più 2u 9 meno 2 fa 7y diventato per 7 viene iscritto quindi io cosa posso dire io posso dire che l'integrale su gamma di t di logaritmo di 3v più 2u fratto 7 in dv è uguale all'integrale su t del logaritmo di x più y ok se preferite vi sostituite il sublime logaritmo di x più y per lo jacobiano del cambiamento di coordinata ma lo jacobiano del cambiamento di coordinata è 7 in dx in è in vediamo un po' io qua che ci devo mettere 7 s in dx quindi portando il 7 dall'altra parte in questo caso diciamo altrimenti se lo jacobiano del cambiamento lo jacobiano non fosse stato costante qua ci dovevo qua ci dovevo mettere dxy in dv ok perché devo fare lo jacobiano del perché qua se no poi non si semplifica ci dovevo aggiungere un pezzo dall'altra parte questo pezzo dall'altra parte siccome questo è costante non ce l'ho messo perché tanto lo metto di qua è costante se qua non fosse venuto costante come facevo a portarlo fuori dall'altra parte quindi dovevo mettere un termine in uv che quando andavo a sostituire in x y si semplificava poi con lo jacobiano insomma dovevo applicare la formula al contrario quindi ci lo andavo lo jacobiano di gamma ok qua va bene però si perché se io uso questa qui di questo chi è se questo lo chiamo e questo è gamma meno uno di e quindi integrare su gamma meno uno qua ci metto logaritmo di x più y in dx di y qua ci diventerà lo jacobiano di gamma meno uno ok comunque nel caso specifico basta dire che logaritmo di x più y in dx di y integrato su t deve essere uguale a un settimo per l'integrale su gamma di t di logaritmo di 3v più 2v settimi in dv ok è vero che questo ci ho messo ben più di 3 minuti a farlo però perché la prima volta uno va lentamente insomma quindi cose essenziali poi mi sono soffermato sulle cose essenziali quali sono uno è controllare bene la sostituzione x diciamo che questa funzione riportata in nuove fuzzi a questi la seconda è per controllare se il 7 l'avete messo dalla parte giusta togliete questa funzione e mettete la funzione 1 qua viene l'area diciamo del triangolo originale che sapevamo faceva 7 mezzi qua viene l'area di gamma di t ma l'area di gamma di t è 7 per 7 diviso 2 49 mezzi quindi effettivamente 49 mezzi fratto 7 fa 7 mezzi e quindi questo è un modo di controllare di aver messo il 7 al posto giusto la costante la parte giusta adesso dopo aver fatto questo cambiamento di coordinate rimane da impostare l'integrale di questo integrale è particolarmente semplice da impostare per quale motivo innanzitutto questo è l'integrale tra 0 e 7 in dv dell'integrale tra 0 e 7 meno u in dv di che cosa? del logaritmo di 3v 3v più 2u più meno scusate logaritmo 6 e questo è un insieme normale comodissimo perché c'ha 1 che fa 0 alfa che fa 0 questa chi è? è 7 meno 1 in 0 vale 7 in 7 vale 0 e quindi il primo integrale lo facciamo in dv il secondo lo facciamo in dv tra 0 e 7 e la funzione integranda è logaritmo di rapporto e la differenza di logaritmo quindi un integrale è facile da fare quindi abbiamo meno logaritmo 7 per e poi ci sta un settimo da considerare per 7 mezzi sarebbe perché ecco se ci togiamo ma dell'integrale della costante la costante si porta fuori poi l'integrale di 1 è l'area l'area è 49 mezzi diviso per 7 fa 7 mezzi poi ci rimane più un settimo dell'integrale tra 0 e 7 dell'integrale tra 0 e 7 meno v del logaritmo di 3v più 2v in dv dv ok? quindi adesso le sostituzioni ve le fate voi perché andare a fare le sostituzioni semplicemente mi fa sbagliare ma in maniera inutile voglio semplicemente adesso andare a fare questa integrale qua poi l'integrale lo chiamo che ne so lambda alla fine sostituisco lambda qua dentro e ottengo dei risultati ok? rimane ah cerco di rimanere su questa lavagna tanto ormai queste cose qui sono state abbastanza controllate quindi non dovremmo aver fatto tutto quindi rimane da fare questo integrale qua devo fare il primo integrale da fare è l'integrale tra 0 e 7 meno 1 del logaritmo vediamo di copiare correttamente di 3V più 2V in DV ok? ah allora come si fa questo qua? qua c'è qualche piccolo trucco allora io lo faccio per parti e quindi una parte la prendo 1 quindi chi mi viene? mi viene l'integrale di 1 di V fa V o V più una costante la costante la posso scegliere io io dico che fa V più 2 terzi U per logaritmo di 3V più 2U e questo deve essere valutato tra 0 e 7 meno 1 meno l'integrale tra 0 e 7 meno 1 qua ci metto V più 2 terzi U che se preferite è 3V più 2U tutto terzi che moltiplica la derivata di quel logaritmo la derivata del logaritmo è 1 fratto 3V più 2U per 3 quindi questo è stato fatto in maniera tale che faccia 1 quindi quanto mi viene? adesso devo andare a sostituire quindi mi viene 7 meno 1 più 2 terzi 1 che moltiplica logaritmo di 21 meno U sarebbe 21 meno 3U più 2U poi meno 2 terzi U logaritmo di 2U poi meno 7 meno 1 perché questo è 1 la lunghezza dell'intervallo è 7 meno 1 allora qua come lo posso scrivere? lo posso scrivere come un terzo qua se fate il conto è 21 meno 3U più 2U ma 21 meno 1 come faceva dentro quindi un terzo 21 meno 1 logaritmo di 21 meno 1 poi meno 2 terzi U logaritmo U meno 2 terzi logaritmo 2 meno 7 più U ok quando è possibile ci sta un fattore da mettere in evidenza è meglio portarlo sempre a parte quindi rimane adesso da fare l'integrale tra 0 e 7 di questa roba qui ok e così otteniamo l'anno poi sospitiamo l'anno allora facciamo sull'altra lavagna facciamo su questa lavagna devo fare l'integrale da 0 e 7 cominciamo con i vari pezzi di un terzo 21 meno 1 allora un terzo lo dà dall'oste mette 2 logaritmo di 21 meno 1 quindi U questo fa un terzo allora qua faccio 21 meno U allora io l'integrale di questo fa col meno perché la derivata di questo fa 2 21 meno U mezzi per meno 1 logaritmo di 21 meno U sempre per qua poi abbiamo meno 21 meno U quadro mezzi per 1 fra 21 meno U e poi cambia di segno qua e tutto deve essere valutato tra 0 e 7 quindi viene un terzo qua viene meno 14 al quadrato mezzi logaritmo di 14 a più 14 mezzi poi ci devo sostituire 0 quindi viene più 21 logaritmo 21 al quadrato mezzi logaritmo di 21 più 21 mezzi col meno e questo è va beh qua potete semplificare è qualcosa perché questo è logaritmo 7 più logaritmo 2 e poi invece logaritmo 7 più logaritmo 3 non mi interessa semplificare introduciamo solo altri errori diciamo possibili errori interessa farlo poi alla fine è chiaro che è la somma che fa il fatto ok gli altri pezzi sono tutti più facili da integrare perché poi abbiamo meno 2 terzi integrato con 0 7 di u logaritmo u quindi u questo è meno 2 terzi con 4 mezzi logaritmo u meno 1 mezzi 4 mezzi per 1 dato u valutato tra 0 e 7 e questo fa meno 2 terzi qua mi viene 49 logaritmo 7 mezzi meno 7 mezzi e in 0 viene 0 perché questo è vero che va meno infinito ma questo fa 0 questo qua non mi teno di voi che fa 0 quindi il secondo 5 pezzi fa così vabbè gli altri pezzi dell'integrale sono banali questi due sono costanti e questo è l'integrale di u tra 0 e 6 ok finite l'integrale fatela solo controllate qua che è un 4 mezzi per la derivata di logaritmo u che fa un 1 quindi viene un 4 mezzi fratto u fa un mezzi si scusate questo è integrato tra 0 e 7 quindi non è mezzi questo è valutato tra 0 e 7 qua c'era le ruole allora questo è questo qui e questo è meno un quadro quarti tra 0 a questo punto finite ed effettivamente a e vediamo un po' ah è lì la stessa cosa anche qua c'è lo stesso errore c'è lo stesso errore in du quindi il primo pezzo è giusto poi il secondo pezzo è un terzo allora la mi viene 21 meno un mezzi quindi è meno 21 meno 4 quarti quindi questo diventa meno un terzo valutato tra 0 e 7 cioè quando ho fatto l'integrare i quarti mi sono dimenticato qua l'integrare ok ho allora con tutte le cautele del caso comunque qua ce l'avevamo messo un errore ovviamente altri errori possono sorgere quando vado a sostituire copiare e fare questo errore spero che sia l'unico e l'abbiamo corretto come si fa però controllare ecco in questo caso controllare non è banale ci sono tanti pezzi tuttavia tuttavia ecco controllare richiede che prima abbiamo finito l'integrare abbiamo fatto una valutazione numerica perché alla fine viene un numero e a quel punto dobbiamo capire se quel numero è ragionevole oppure no allora torniamo al nostro integrale l'integrale originale era fatto così era allora l'integrale originale qua era 1,2 poi c'era 3,1 era un triangolo fatto così ok allora andiamoci a disegnare alcune delle linee di livello della funzione per esempio questo è il punto 1,2 qua la funzione sta su x più y uguale 3 qua la funzione sta su x più y uguale 2 questo è il punto 3 meno 1 e poi andiamo a prendere per esempio x più y uguale 1 ok allora cosa sappiamo noi allora qua la funzione vale 0 qui la f vale 0 che vale logaritmo di 1 qua la f vale logaritmo di 1 qua la f vale logaritmo di 1 ok qui la funzione invece è negativa anzi qua al vicino la funzione va a meno infinito però ricordiamoci che l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo questo è uguale a x logaritmo x meno x valutato tra 0 e 1 questo qui x logaritmo x meno x questo vale 0 questo vale meno 1 vale meno 1 quindi diciamo che se questo fosse un insieme di area 1 e la funzione diciamo se avessi logaritmo x su 0 e 1 cartesiano 0 e 1 ci devo integrare sopra logaritmo x in dx di x no quindi su r allora poi viene integrale di logaritmo x tra 0 e 1 in dx per 1 in dx quindi viene esattamente questo e fa meno 1 quindi qua praticamente quest'integrale è sicuramente negativo però però tutta l'area faceva 7 mezzi cioè 3,5 questo qua è un numero intorno a meno 1 probabilmente anche più grande invece questi altri due numeri allora tra qui e qui la funzione è compresa tra 0 e logaritmo 2 la media della funzione sarà compresa tra 0 e logaritmo 2 quest'area qui se uno fa la figura per bene sembra la metà un po' più della metà del triangolo quindi quindi sarà invece di essere 7,5 cioè 3,5 sarà più o meno intorno a 2 però il valore della funzione sarà abbastanza diciamo è più grossa la zona che è vicino al logaritmo 2 quindi se io devo fare una media metterò un valore un po' più vicino al logaritmo 2 diciamo 0,4 0,4 per 2 sarà circa 0,8 e quest'altra zona qui è compresa la logaritmo 2 e la logaritmo 3 cioè tra un po' meno di 1 un po' più di 1 per un'area che farà circa 1 e quindi sarà un altro integrale che sarà vicino a 1 un po' meno di 1 probabilmente quindi 0,8 0,8 1,5 questo qua farà tra meno 0,5 e 0,1 mi aspetto un numero vicino a 1 mi aspetto poi posso sbagliare è chiaro però il punto è che una valutazione del genere anche se fatta abbastanza in maniera grossolana funziona bene da controllo perché in genere quando tu sbagli al fare l'integrale non sbagli de poco sbagli perché ti dimentichi un pezzo ti dimentichi di fare un integrale oppure ti dimentichi una costante quindi generalmente siccome tutti quei pezzi se il pezzo è piccolo e il cambiamento è piccolo sei sfortunato non te ne accorgi diciamo non riesci a vedere l'errore in questo modo ma se il cambiamento nel risultato è grosso cioè per esempio mi viene un numero molto negativo mi viene meno 10 chiaramente è sbagliato torno indietro cerco di trovare l'errore ok certamente non è un controllo soddisfacente come in altri casi però è pur sempre un controllo che è opportuno e vale la pena di farlo va bene allora questo è una tipologia di esercizio che oltretutto almeno come valuto io gli esercizi io non sono la persona che valuta gli esercizi 0 e 1 cioè nel senso è un atteggiamento legittimo c'è uno si può dire l'esercizio è fatto bene il punteggio è pieno l'esercizio è sbagliato il punteggio è 0 uno guarda il risultato finale molto semplice anche da correggere non faccio in questo modo quindi mi vado a vedere l'esercizio però per andarmi a vedere l'esercizio e per poter dare una valutazione parzialmente positiva allora sapete bene dall'analisi 1 all'analisi 2 che la valutazione è positiva e se l'errore non sta nella fase iniziale se uno ha la prima riga già sbagliato è ovvio che si porta appresso tutti i conti sbagliati e là è particolarmente diciamo controllare mano a mano che si va avanti più si va avanti è più difficile controllare l'inizio è facile quindi sbagliare all'inizio è particolarmente grave no uno non può invocare dice vabbè ho fatto tanti conti alla fine mi sono dimenticato il meno oppure mi sono dimenticato il 6 quindi cercate di fare i conti in maniera ordinata cercate di ridurli il più possibile cioè noi qua nonostante li abbiamo ridotti il più possibile i conti sono tanti pensate se non se partite con i due integrali spezzando il triangolo in due e facendo due integrali separatamente buonanotte diciamo i conti più che raddoppiano oltretutto voi avete due profili uno di sotto e uno di sopra quindi più che raddoppiano e sicuramente diciamo quasi sicuramente alla fine ci ficcate qualche errore se ce l'ho ficcato io con la metà dei conti probabilmente ce lo ficcate pure voi con il doppio dei conti quindi ovviamente uno poi se ha un po' di tempo ricontrolla ci sono i metodi un po' per trovargli gli errori cioè non è che uno fa un errore diciamo deve per forza l'errore diciamo per esempio nel momento che mi avete trovato l'errore qua sono andato a controllare prima e quindi ho corretto pure l'errore precedente e così via però diciamo al di là di questo diciamo se uno ha fatto i conti in maniera ordinata e chiara un eventuale errore si trova facilmente e si può valutare quanto incide sulla diciamo sulla valutazione se uno non lo trova è un macello quindi come fa a dare una valutazione anche solo parzialmente positiva è difficile uno può dare al limite dare un piccola percentuale dell'esercizio giusto se uno ha fatto bene il cambiamento di variabili questo è tutto va bene allora fermiamoci un attimo grazie a tutti